Buongiorno a tutti. Presidente Roponen, grazie per l'organizzazione questa mattina. Mi regolo veramente di non essere capito di essere presenti come plenari a causa delle nuove restriccioni di via qui in Svizzera. Mi sarebbe stato un piacere di incontrare tutti voi su questa occasione speciale. Mi permette di iniziare a congratulare Jukka, che abbiamo incontrato ancora dopo 40 anni in Roma, e mi sarebbe stato impressionato con come il passione, l'engagement e la dedicazione al nostro sport ha rimanato un cambiamento. Il nostro movimento definitivamente necessita di persone come him. La Finlandia è una nazione sportiva con una grande tradizione a un livello internazionale. Celebrando oggi 40 anni della federazione nazionale è ancora un altro esempio di questo committimento al sport. Grazie per ottenere questo stagione. Il basso e il softballo in Finlandia sono in un'unica posizione. Le synergiche che sono stati creati con Pesapallo, con tantissime skills transferibili tra i due sport e la collaborazione delle due organizzazioni, hanno creato la fondazione solida per l'imprezzabile crescita del baseball e il softball in Finlandia. Sono convincente che il partnership tra il Pesapallo e il baseball e il softball servirà di beneficio di bothi sport e organizzazioni. Il atletico di Pesapallo può essere un'assietta per il baseball e il softballo nazionale, especially in the early stages, while il baseball e il softball possono proporzare l'internazionale esperienza e l'esposizione. È no hard to picture Finland moving up the European and World Rankings quite quickly. I've also been pleased to observe how Baseball 5 has been included in your development plan as part of your joint proposal for the schools. Baseball 5 is a perfect fit for the youth today and it can be a key instrument in attracting new atletists to baseball, softball and Pesapallo. Baseball 5 can also be played easily indoors, allowing your community to stay together during winter and keep your members engaged 12 months a year. President Roponen, allow me to announce today that WBC is pleased to support with the necessary equipment the established of the Finnish Super Baseball League. I'm confident that you have now all the resources to make this project a success and I look forward to seeing it personally. looking ahead with all the activities that you have put in place I can also see how Finland will soon be able to fill a strong women's softball national team. I will not be surprised to see them competing for a qualification spot for the next Olympia softball tournament. Finally, I would like to mention a new area of work which the WBC just embraced this year, e-sport. Video games and other forms of electronic entertainment have become extremely prominent in our society. For the reason, at the beginning of 2021, the International Olympic Committee decided to have a fully virtual event. The Olympic Virtual Series where baseball was one of the five found on e-sport and the one which registered the highest amount of engagement among viewers and participants. The WBC has approved e-sport as an official discipline and we have developed a long-term strategy which will allow us to be increasingly relevant in today's digital world and be in a position to leverage future opportunities. We encourage all our national federations to do the same as we will have many new exciting opportunities in 2022. I leave you now to your evening enjoying this special night even if I'm not there hoping to be able to meet you soon at the next available occasion. For this event, I ask to Gabrielle Waag to represent me and the WBC. Thank you again and enjoy this night. and enjoy this night.